Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Tragedia dello Russo. Saranno effettuati oggi gli esami irripetibili presso il commissariato di Lauro, test sui reperti prelevati sul luogo dell'incidente che ha visto perdere la vita di Antonio dello Russo. Per la prima volta da quella notte tra il 14 e 15 gennaio, i consulenti nominati dalle parti visioneranno le auto incidentate, sia la gazzella dei carabinieri che effettuava il posto di blocco, sia la Fiat Bravo guidata da Dello Russo, le pistole in dotazione degli uomini dell'arma, il materiale fotografico e i rilievi effettuati dalla polizia stradale dopo l'impatto. I periti nominati dalla procura, l'ingegnere Alessandro Lima e il medico legale Elena Picciocchi, gli avvocati Martino Franzese e Fabio Tulimiero, entrambi nominati dalla famiglia della vittima, daranno corso alla perizia che mira a stabilire la dinamica del sinistro e soprattutto la traiettoria dei bossoli sparati dai carabinieri nel tentativo di fermare la corsa della 39enne di Mercogliano. Nello specifico, così come richiesto espressamente dal PM Paola Galdo al medico legale Elena Picciocchi, che ha effettuato l'autopsia, bisogna capire se i colpi esplosi in direzione della macchina hanno contribuito e provocato il sinistro mortale, o se siano stati i propri bossoli, la causa della morte. Elementi che gli avvocati della famiglia dello russo hanno richiesto nella denuncia depositata in procura lo scorso 21 gennaio. I carabinieri che sono stati iscritti per atto dovuto nel registro degli indagati per omicidio colposo hanno preferito non nominare i loro consulenti di parte affidandosi a quelli della procura.